Danzando sulle note della solidarietà, successo al Teatro Nuovo di Udine per lo spettacolo di danza organizzato da Axis in favore di Auxilia Onlus. Due le compagnie protagoniste della serata, la RBR Dance Company, diretta da Cristiano Fagioli e Cristina Ledri, e la Friuli Venezia Giulia Ballet Company New Space di Nicoletta Iosifescu. Sul palco anche gli allievi di una dozzina di scuole di danza della regione. 250 giovani ballerini che si sono esibiti con talento e specialmente con lo spirito giusto che la serata richiedeva. La direzione artistica dello spettacolo era di Federica Comello. Spettacolo, professionalità e solidarietà, dunque a sostegno delle attività di Auxilia, una delle realtà più attive e meritevoli nel campo della solidarietà, della cooperazione e anche della ricerca. Nata proprio in Friuli, a Cividale, dove a sede Auxilia è ora attiva in tutta Italia, grazie anche alla capacità e, va detto, alla dedizione del dottor Massimiliano Fanny Canelles, anima e mente della ONLUS, impegnata in molti paesi come Afghanistan, Iraq, Sudan, Sri Lanka, Palestina. Auxilia, garantita dal governo italiano tramite protocolli d'intesa con i ministeri della giustizia e degli interni, pubblica anche il mensile social news ed è a capo del comitato italiano Progetto Mielina, che sostiene la ricerca medica per le malattie demielinizzanti.